Sì, c'è una nuova esperienza per me di essere qui a Schio. Sono contenta di giocare per voi e spero di vincere quest'anno anche. È più facile per me di arrivare a una squadra nuova e con due giocatrici che conosco già. È molto più facile per me. Io sono già 10 anni che gioco paracanestro e ho sempre giocato loro lega. Solo una volta ho giocato loro cup con Toronto. Per me è molto importante giocare due partite alla settimana perché con solo una partita le settimane sono lunghe. L'Eurolega è un campionato molto interessante perché mi ho scelto se è arrivato per Schio. Sono appena arrivata. È vero che è strano per me perché l'esportatorio è sempre il primo a destra. Adesso devo fare un po' più di strada. No, per me è strano perché è vero che sono 4 anni che sono in Italia e ho sempre giocato a Toronto. È un po' strano ma fra un po' io prenderei il mio, non lo so come si dice in Italia, noi francesi e europei. è una cosa veramente fantastica. Non lo so come posso descrivere queste cose ma la medaglia, tutto, tutto e la Francia in finale. Io prima ero in piedi e ho detto dai ragazzi dobbiamo passare le quartiere finale e dopo vediamo. E alla fine abbiamo giocato la finale. E alla fine abbiamo una cosa.